Una leggera curva in discesa, quella dei contagi a Caltanissette registrati nelle ultime 24 ore. Il dato però è da considerare secondo il report del 9 gennaio e quindi comunque il report domenicale dove si eseguono meno tamponi. Sono in tutto 331 i positivi registrati in provincia di Caltanissette, dei quali 120 a Gela, 47 a Caltanissette e gli altri nei paesi della provincia. Si registra un dato di molto altro di positività a Vallelunga, Platameno. E intanto contiamo i numeri rispetto ai singoli paesi della provincia. A Caltanissette positivi in quarantena domiciliare sono 1.342, mentre i ricoverati in malattie infettive sono 20. Numeri altissimi a Gela, 3.653 i positivi in quarantena domiciliare, 27 ricoverati in malattie infettive, 7 i ricoverati a Gela in terapia intensiva. I numeri complessivi sono 66 i ricoverati in malattie infettive, dunque nessuna differenza rispetto ai giorni precedenti e sono 9 invece i positivi ricoverati in terapia intensiva. Nel complesso in provincia i positivi in quarantena domiciliare sono 7.424, tutti in osservazione a casa. Cominciano ad alzarsi anche i numeri dei guariti, sono 242 i pazienti guariti a Gela, 84 a Caltanissetta, 24 a Mussomeili, 15 a San Cataldo e così via in tutti gli altri paesi della provincia. Si contano ancora dei decessi, sono 2 i pazienti deceduti positivi, un paziente di Gela e un paziente di Butera. Grazie mille.